Consigliere Blasioli, ancora problemi per questi pazienti che soffrono di diabete e non si riesce a trovare una via di uscita soprattutto negli ospedali? Purtroppo martedì in Consiglio regionale abbiamo presentato la nostra interpellanza, mia del capogruppo Paolucci, cui la Veri sostanzialmente risponde che la situazione è ferma a luglio dell'anno scorso, quando c'è stata l'ultima riunione del coordinamento delle associazioni. Oggi il coordinamento delle associazioni dei diabetici è qui con noi in conferenza stampa per dire appunto che da luglio dell'anno scorso nulla si è mosso, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei presidi per i diabetici, sembrava tutto risolto a luglio dell'anno scorso e invece la situazione è ancora in altissimo male. Non si è capito se si farà con le farmacie, non si è capito se si farà con un'altra modalità, fatto sta che tutte quante le persone devono spostarsi verso l'ospedale della provincia, del capoluogo di provincia per ricevere questi presidi. Quindi succede che per esempio da abateggio bisogna spostarsi a pescare e succede che in un periodo di pandemia come questo la stessa distribuzione avviene proprio nel Covid Hospital in quel palazzo e quindi moltissime persone durante questa pandemia sono rimaste fuori in fila con il rischio di fare un viaggio e di non poter ricevere questi presidi. Situazione che oggi almeno questa si è risolta con l'allentamento del virus, ma veramente siamo l'unica regione d'Italia insieme alla Lombardia che non effettua la distribuzione dei presidi nelle residenze, quindi nelle farmacie oppure nei comuni dove risiedono i diabetici. Loro chiedono appunto di essere sentiti come pure chiedono la distribuzione del Freestyle 2, un nuovo meccanismo diciamo con un allarme sonoro che nel frattempo è arrivato, è arrivato il 21 di aprile con la conclusione, con l'aggiudicazione di un appalto che viene distribuito per esempio a Termo e all'Aquila ma non viene distribuito ancora a Pescara e Chieti e anche di questo dobbiamo registrare che l'assessore Verini nel rispondere alla nostra interpellanza non sapeva neanche che l'appalto era stato concluso. Ha tante difficoltà anche il fatto che comunque in tanti presidi minori i reparti di diabetologia vengono anche chiusi. Per esempio ad Ortona dove diciamo con le difficoltà regate a geriatria che si è trasferita a Chieti è stato trasferito anche l'unico medico che si occupa appunto dei pazienti diabetici e oggi se si chiama per esempio Ortona vi si viene diciamo invitati a richiamare tra qualche mese per fissare una visita a discapita appunto invece della continuità assistenziale.